Si fermava a pensare alla sua vita, a quella che voleva e a quella che le era capitato, ai sogni e ai segni, alle rinunce e a tutte quelle maldette volte in cui era andato così vicino a toccare quasi quella fottuta felicità. Sembrava rassegnato, sembrava, ma ci avrei scommesso, scommesso e vinto, che stavo solo disegnando un cielo nuovo, dove aprire quelle ali e volare. Alla faccia di chi aveva campestato il suo essere per farne un altro uomo, lui avrebbe deciso di rimanere lei e come lei nessuno al mondo.